Buonasera e ben ritrovati con Decoder. Ieri in Regione è stato approvato un ordine del giorno che impegna la Regione a sottoscrivere un accordo di programma per il quale dovrebbero essere investiti circa 4,6 milioni di euro sulla variante di Cerete. Un risultato importante ma mentre c'è ancora un po' di strada da fare per arrivare a questo risultato a Decoder vogliamo cercare di aprire il dibattito sulle infrastrutture che servono al territorio dell'Alta Valle Seriana. Ma per fare questo vogliamo muovere i primi passi da un'analisi, una presentazione di quelli che sono stati alcuni progetti che sono anche stati messi in un cassetto poi lo vedremo e altri che si cerca di portare avanti in questo momento. Iniziamo quindi dal nostro primo ospite che è l'ingegner Giampiero Benzoni, ex sindaco di Rovetta tra il 1995 e il 1999. Innanzitutto buonasera Benzoni. Buonasera a tutti. Abbiamo invitato Giampiero Benzoni perché è stato tra quei protagonisti che alla fine degli anni 90 cercò di portare avanti un progetto molto importante per il nostro territorio, la variante Pontenossa-Clusone-Rovetta. Un'opera che aveva anche un certo costo, poi lo vedremo, ma che era inserita in una programmazione, in una progettazione più ampia che avrebbe potuto consentire tempi di percorrenza molto più rapidi sul nostro territorio per collegare la periferia alla città di fatto. Allora partiamo da qui. Quali progetti si volevano portare avanti in quegli anni per la Valle Seriana? Allora, io mi sono occupato in particolare della variante statale 671. Quindi bisogna innanzitutto, tutto questo progetto va visto a partire dal 1997-90, dove c'era una, e dove c'è ancora, anzi è peggiorata, il collegamento fra l'Alta Valle e la città. Nella sostanza cosa si voleva fare? Questo era un progetto che aveva lo scopo di migliorare la viabilità fra Bergamo e la Val di Scalve, perché l'intento era la bassa valle doveva fare la sua parte per migliorare la viabilità come in parte è stato fatto, anche se poi attualmente, per parlarci chiaro, la Montenegrone e Compagnia Bella sono risultati dei progetti vecchi ad oggi. Questo si inseriva nel migliorare una parte che era il collegamento fra il Ponte del Costone e Rovetta, poi c'era un'altra parte che migliorava, che era l'attraversamento di Castione della Presolana, che quindi doveva essere fatto tutto in gallerie, tanto è vero che gli attuali strumenti urbanistici del comune di Castione della Presolana prevedevano questo e poi lo Spada, che era il Franco Spada, che era il presidente allora della comunità montava, spingeva per un collegamento in galleria fra Castione e la Val di Scalve. Questa era la logica del percorso che si voleva fare, tenuto altresì conto che il mezzo di trasporto più efficace di allora, purtroppo ancora anche adesso, erano le quattro ruote e non c'era altra alternativa. Di questo però, se volete vi faccio uno spacco per chi non l'ha mai sentita, il primo assessore del Partito Socialista della Regione Lombardia, che era Salvatore Parigi, proponeva negli anni 70 di fare un collegamento fra Gazzaniga e Bergamo in metropolitana. Questo l'abbiamo perso, questo concetto, e siamo ancora qui a discutere di queste cose. In particolare, io sono qui a illustrare il progetto di allora della variante 600, attenzione, cominciamo col dire che allora la 671 era strada statale, ed era in carico all'ANAS, che è molto importante in questo ragionamento, perché allora si potevano fare delle cose con l'ANAS, cioè delle cose vuol dire trovare dei finanziamenti o trovare delle risorse all'interno dell'ANAS. Cosa prevedeva questa cosa? Prevedeva il collegamento del Ponte del Costone fino all'attuale rotonda, quella che si chiama adesso la Rotonda di Rovetta, che parte poi per Castione. Ora, questo progetto praticamente veniva realizzato tutto interrato, in particolare poi dal Ponte del Costone fino ad arrivare a noi, c'era tutta una galleria, tenete conto che il progetto è di circa 9 chilometri, ma era praticamente tutto in galleria, o in interrato, in particolare nella parte dove c'è adesso la strada provinciale, che si vede che in quella zona lì, il tragitto era lo stesso, ma la sostanza era che era tutto interrato, non si vedeva niente. Ecco, lo vedete lì, il tracciato che l'ingegner Villoresis aveva incaricato da tre comuni e aveva predisposto per questa variante alla strada statale 671. Ecco, di fatto adesso stiamo per vedere il punto di ingresso, il punto di ingresso è proprio dopo il Ponte del Costone, prevedeva un ponte che scavalcava e andava di là. Esatto, la prima ipotesi di Villoresi era quella, che la strada dovesse andare dritta non sul Ponte del Costone, se non che nella prima conferenza di servizi, perché questo progetto, forse qualcuno non lo sa, ma ci sono state delle conferenze di servizi dove tutti gli enti hanno partecipato. Proprio per questa ragione poi ha trovato una variante che bisognava fare il Ponte del Costone e poi da lì attraversare dall'altra parte. Perché? Perché lì la BAS, allora che era presente nella prima conferenza di servizi, cosa diceva? Guardate che lì voi non potete entrare dritti perché c'è una sorgente di un metro cubo secondo che serve al comune di Bergamo per poter dare l'acqua al comune di Bergamo. Quindi di fatto arrivando al Ponte del Costone, risalendo, bisognava fare il ponte, andare avanti circa 150-200 metri, lì ci sarebbe stato un altro ponte che riportava di là, sull'altra sponda, al traffico e lì entrava in galleria. Lì entrava in galleria e restava in galleria fino a Rovetta praticamente. C'era l'uscita verso quello che chiamavamo Piario, poi c'era l'uscita a quello che adesso è Via Brescia e poi c'era l'uscita su Incima. Queste erano le tre uscite sul territorio. Ecco, stiamo vedendo che era... Questa è la tipologia, diciamo così, delle sezioni. Quella che vedete adesso è la tipologia che veniva fatta al di sotto dell'attuale provinciale. Quindi l'interrata. L'interrata e poi l'altra invece quella tonda che probabilmente avete visto prima era questa, è questa qui, è la classica galleria dell'ANAS con tutte le categorie, con tutti i requisiti che l'ANAS voleva. Proprio perché, attenzione, siamo ancora nel 1997 e parliamo della strada statale 671 ANAS, non è una strada provinciale. Tanto è vero che nella seconda conferenza di servizi era presente l'ingegner Costanzo, che era il responsabile per la nostra zona dell'ANAS, il quale diceva che nella sostanza il parere del progetto, che lui l'ha giudicato, positivo, sia dal punto di vista tecnico, proprio perché le sezioni e tutto quello che necessitava e corrispondeva ai requisiti dell'ANAS, e sia dal punto di vista economico. Adesso qualcuno qui si spaventerà, ma dal punto di vista economico erano 200 miliardi di vecchie lire, vale a dire 20 miliardi al chilometro. Tenete conto che è tutta in interrato, quindi non è una stradina del 2 di briscola, giusto per essere chiari, ma è una strada interrata. Che quindi consentiva anche di non consumare suolo e di avere un minore impatto ambientale. La è perfetto. Questo è uno dei vantaggi che proponeva questa variante, perché se andate a vedere adesso chi di voi va a Salluccio e guarda verso il basso, trova che la strada divide in due il territorio. In quel caso non avrebbe diviso alcunché, perché la strada non si vedeva. Questo era un pregio di questo progetto, che per la verità, come diceva giustamente l'ingegner Costanzo, poteva essere anche realizzato a tratti, a lotti. Vi faccio presente che allora, per qualcuno che magari non si ricorda, gli scondi su questo tipo di lavori erano dell'ordine del 30%, quindi tenuto conto che il quadro economico era di 170 miliardi di lavori, di 30 miliardi di, diciamo così, a disposizione per tutta una serie di cose, l'ingegner Costanzo suggeriva che questa cosa poteva essere fatta in vari lotti, suggeriva che addirittura si poteva instaurare con gli enti locali e l'ANAS, potevano, diciamo così, coordinarsi attraverso una convenzione per poi fare questo tipo di lavoro, che era tutto finanziato dall'ANAS. Allora, a condizione che il territorio lo volesse, perché il problema principale era che il territorio lo volesse. E come si significava questa cosa? Questa cosa andava avanti con una convenzione. Infatti, all'inizio del 99, allora il comune di Rovetta aveva predisposto una bozza di convenzione che aveva fatto girare fra tutti gli enti, e per enti intendo non solo i tre comuni che sono i titolari, diciamo così, del progetto Rovetta, Clusone e Ponte Nossa, no, girava anche fra la regione Lombardia, la provincia di Bergamo, il compartimento dell'ANAS di Milano, la comunità montana-valle seriana superiore, quella inferiore e la comunità montana di Scalve. Quindi questo era il convenzionamento. Tenete altresi conto che questo progetto è stato presentato anche alla regione Lombardia, e infatti la regione Lombardia, nell'intervento di viabilità della provincia di Bergamo, aveva inserito con il progetto BG022 questo tratto di strada, che quindi, come dicevo prima, faceva parte del collegamento tra Bergamo e l'Alta Valle. Questo era il senso di questo progetto, perché se lo significhiamo da solo, cioè dal Ponte del Costone fino su a Rovetta, non ha alcun senso. Il senso doveva essere da Bergamo a venire in su e tutte le infrastrutture devono essere legate una con l'altra in modo tale che venisse migliorata la viabilità. Quindi di fatto questa variante era una parte di un insieme di interventi sul territorio che avrebbero potuto migliorare la viabilità. E poi di fatto è finito tutto in un cassetto. Il territorio ha optato per alto, ci siamo un po' dimenticati di questa cosa. Da quello che io e lei abbiamo potuto vedere nel 2018, Sono state fatte altre scelte, ma la cosa che mi preoccupa di più è che non esiste. Cioè se questo era un progetto, forse come diceva qualcuno, con ampio spazio, con tutto quello che vuole, ma con una possibilità di spesa troppo elevata per qualcuno, ma nessuno, mi scusi e le chiedo da cittadino a cittadino, lei ha visto un altro progetto per migliorare la viabilità da qui a Bergamo? Io l'altra settimana sono andato a Settimo Milanese, sono partito ore 10 alle 7 da casa mia e sono riuscito ad arrivare a Settimo Milanese alle 9 e 30. Avevo appuntamento alle 9 e 30. Per sbaglio sono arrivato, vuole sapere quanto ci è impiegato arrivare il casello di Bergamo? Un'ora e mezza, cioè non esiste che la nostra alta valle, per collegarsi verso il basso, verso dove vogliamo, dobbiamo attenersi a questa tipologia di tempistiche per progettare, per collegarsi. Perché adesso non si parla più Clusone quanto dista da Bergamo in termini di chilometri, ma si parla di Clusone in quanto tempo arrivo a Bergamo. E quindi uno parla di se prima, se quando nel 97, che non c'era niente, si arrivava a Bergamo in 40-50 minuti, adesso si parla di un'ora, un'ora e un quarto, e in particolari casi anche un'ora e mezza. Quindi stiamo peggiorando. O qui deve nascere un progetto che cambi la metodologia di trasporto, oppure ci deve essere un altro progetto che cerchi di portare le quattro ruote più in fretta possibile verso il basso. E ci deve essere contemporaneamente, a mio giudizio, un altro progetto che mantenga le persone sul territorio. Questi progetti, caro il mio signore, di questi progetti non ne vedo manco uno. E quindi noi saremo destinati a spopolare l'Alta Valle. Questa è la grande problematica di cui io non sento parlare. E di cui mi permetta una polemica nei confronti degli amministratori. che ognuno guarda il proprio territorio, ma non esiste un progetto generale per andare fino a Bergamo. Questo è, mi scusi questa polemica, ma come cittadino la devo fare. Allora, noi ora ci fermiamo per una breve interruzione. Al rientro volteremo pagina. Ci occuperemo del progetto del prolungamento di Teb. E poi successivamente ci sarà il terzo e l'ultimo passaggio di questa trasmissione con cui cerchiamo appunto di discutere anche su possibili soluzioni o su quelle che possono essere le strade percorribili per cercare di migliorare l'attuale situazione che è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente non si può pensare che si possa andare avanti ancora con certi tempi di percorrenza e restare sul nostro territorio. Mi permetta di ringraziarvi per aver potuto esprimere questo mio parere sulla strada e questa mia parere invece generale sulla cosa che è una questione. La ringraziamo per aver invece accettato il nostro invito. A tra poco.